Rendere la Toscana una regione senza glifosate a partire dal 31 dicembre 2021, con regole più stringenti sull'uso dell'erbicide e con intese con le associazioni e le imprese che fino ad oggi ne hanno fatto uso. È l'obiettivo delle nuove disposizioni regionali illustrate dal presidente Enrico Rossi, insieme agli assessori all'ambiente Federica Fratoni e all'agricoltura Marco Remaschi. Primo passo, lo stop all'uso del glifosate nelle zone di salvaguardia nell'arco di 200 metri attorno ai pozzi di acqua destinati all'uso idropotabile. Via il glifosate da queste zone facciamo un accordo con le aziende condividendo buone pratiche che insieme ad ARPAT, al Genio Civile, alla ASL verranno in qualche modo concordate e veicolate. Su questo ci sono anche sperimentazioni in atto che devono essere promosse. Credo che sia un salto di qualità importante, la regione già aveva approvato una sua regolamentazione ma con questo ulteriore aggiornamento anticipa, ripeto, obiettivi che l'Unione Europea si pone al 2022 ed oltre e soprattutto sul proprio territorio dà delle direttive stringenti affinché l'utilizzo di queste sostanze sia controllato e sia inibito nelle zone più sensibili. Già pronto anche un protocollo da sottoscrivere con il mondo del vivaismo e nel Mirino c'è anche l'impiego del glifosate sulle scarpate lungo i binari delle linee ferroviarie. L'impegno riguarda anche l'incentivo all'agricoltura biologica con un prossimo intervento da 15 milioni nell'ambito del piano di sviluppo rurale annunciato dall'assessore Marco Remaschi e presto ci sarà anche un marchio da porre su prodotti ma anche parchi e giardini non trattati con glifosate. È chiaro che come sapete poi gli erbicidi penetrano nel sottosuolo e quindi hanno delle problematicità sia per quello che riguarda le acque superficiali sia per quello che riguarda le acque profonde e quindi indubbiamente noi abbiamo bisogno di una svolta più verde e riteniamo di iniziare questo tipo di percorso di confronto con le organizzazioni e con le associazioni di confronto con tutti quei soggetti che chiaramente ne fanno un utilizzo. La Toscana procede anche con la revisione delle sostanze ammesse dall'elenco regionale in linea con quello ministeriale dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti.